Tutto pronto ragazzi? Chi c'è? Fra pochissimi minuti... RELIGHT ORCHESTRA! Ciao! Sous-titrage ST' 501 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 c'erano questo lavoro che è possibile fare anche delle cose un po' diverse. È un grande onore essere qua. Eh ragazzi la cosa strana è che io vi ho visto provare poco fa e non mi sono neanche accorto che stesse suonando dal vivo che tutto fosse in esecuzione dal vivo perché era talmente perfetto che ho avuto di più. Ho studiato ho studiato. Bene è stato veramente bello uno spettacolo diverso dal solito il fascino dello dello strumento tradizionale poi alla fine non ce n'è per nessuno eh no perché è vero anche se nella tua è una chiave più più elettronica comunque vedere suonare qualcuno dal vivo ha sempre un fascino straordinario. Quanto tempo ci avete messo a a trovare la quadra perché ovviamente non è semplice perché magari suonare a tua testa nella tua testa un'idea no? Poi l'hai trasformata dal vivo. Ma guarda all'inizio io vengo dal mondo classico della musica classica quindi sono diplomato al conservatorio in giurina e pianoforte quindi quando lavoravo in disco con Robby facevo solamente il vocalist René lo sa bene. Lavoravamo al pineta insieme. Esatto. Poi dopo è venuto questo avvento del violino che io non volevo assolutamente portare in discoteca ma Robertino è stato ma non volevi per perché? Perché non mi piaceva. Vedevo la mia figura come dottor Jekyll e mister Hyde. Io facevo i concerti di musica classica in smoking poi mi cambiavo finito il concerto andavo a lavorare in discoteca. E ti piaceva questa doppia veste? Eri impurista allora prima. Ogni tanto si vestiva anche da donna ma non lo dice. Quello è un altro stesso. Il terzo lavoro. Nobby quella è un'altra storia allora raccontiamo dopo. E quando si è deciso insieme con Robertino di portare comunque il violino in discoteca giustamente cioè devi un attimo fare la quadra della situazione come hai detto tu perché non va bene comunque suonare sempre rompi un po' le scatole. No soprattutto non me ne vogliono i musicisti. No è tipo quelli che fanno le percussioni no no i primi i primi cinque minuti di una figata o dieci minuti carino dopo un quarto ore vorresti uccidere perché il problema è sempre lo stesso che chi è sul palco ha la necessità di dare un senso alla sua presenza e spesso e volentieri il senso è che poi diventa però comunque immediatamente in discoteca noi al nostro set facciamo quattro cinque uscite col violino e poi abbiamo anche l'arpa laser che è sempre una marca che è uno strumento molto affascinante perché è una serie di raggi laser ad ogni raggio corrisponde una nota quindi toccando il raggio laser si crea andatevelo a vedere su youtube fate re light orchestra sul nostro canale laser art e viene fuori subito lì assicuro che è una figata io l'ho visto da vivo assolutamente ovviamente per apprezzare eh l'utilizzo dell'arpa laser c'è bisogno del fumo c'è bisogno dell'effetto del del fumo allora io ragazzi rido a prescindere rido sulla fiducia scusa donne è l'unico che si è messo a ridere per apprezzare questo film c'è bisogno del fumo forse esatto per risaltare l'effetto del laser c'è bisogno del buio anche nel buio nel buio ovviamente ok così è meglio così è più chiaro e del fumo diciamo no quello che utilizza donne noi abbiamo i nostri ospiti di oggi che sono in re light orchestra e a loro vorrei fare questa domanda perché una delle prove nella vostra carriera è stata diciamo molto importante italian got talent se non sbaglio vorrei sapere che cosa vi siete portati a casa di questa esperienza televisiva è stata una grandissima esperienza era il 2012 era quel periodo che aveva fatto praticamente il nevone quella sera che siamo andati in onda e mh c'è stato uno share grandissimo perché erano tutti a casa per la nera otto milioni di spettatori esatto ovviamente qualcosa cambia perché otto milioni di persone che ti vedono già il giorno dopo c'erano un sacco di persone che cercavano su google appalase spettacoli e quindi da lì improvvisamente abbiamo avuto una tutto un percorso futuristico per cui andavamo in giro bardati con luci e il wire che sono non i led ma tipo il film di tron per dire era il momento che avevamo i corpetti con la luce il wire un po' craft work esatto infatti con amerigo ci siamo incontrati a miami proprio in quel periodo lì e eravamo e ho fatto finta di non conoscerlo perché lui non lucicava come vuoi eh scusa lui lucicava di suo lui lucicava di lui esatto sentite comunque a parte l'arpa latte del violino e il tuo e quant'altro siete anche dei produttori e fate numerose produzioni che cosa avete fatto recentemente che cosa farete del futuro? Ma guarda abbiamo tre progetti appena usciti fra l'altro anche in classifica e siamo molto contenti il nostro genere è quello house un po' più funky o un po' più tribale e quindi c'è un progetto con Gregor Salto che è un bellissimo DJ che tutti conoscono che si chiama Holodum che ha remixato la nostra canzone abbiamo due progetti e un terzo in essere con degli artisti degli anni settanta che si appoggiano a noi magari per la produzione di cose eh più funky house e una è Claudia Berry che è stato un grandissimo nome e una diva appunto americana e l'altro progetto è long train running con la voce originale dei tracks abbiamo circa sei o sette progetti in cantiere per l'estate fra cui anche i remix di LGV che è stato il nostro grande inno che ormai ancora oggi ogni anno ci remixano almeno quattro cinque di c'è anche un album in uscita no? Sì c'è un album in uscita si spera prima dell'estate e con qualcosa di rivisitato appunto già delle nostre produzioni come remix e degli netti è il quarto album nostro quarto album è impegnativo no? Molto molto se voi avete unito la musica classica con il concetto futuristico di musica quello più alla portata magari dei ragazzi che vanno in discoteca nel club ma se dovesse chiudere gli occhi adesso immaginarvi fra dei sanni la nuova frontiera del vostro lavoro pur rimanendo futuristico quale sarà? Ma guarda già nell'album c'è un cambiamento abbastanza importante perché ci sarà tutta una sessione appunto dedicata a Marco Anzetta quindi al violino inteso in maniera più pop classic quindi anche con delle cose che non sono prettamente da ballare e ci sarà anche una sessione di brani che noi stiamo producendo più già stati quindi il nostro è un percorso di riscoperta quasi culturale della musica da discoteca reinterpretato in tanti lati e noi già oggi facciamo anche eventi aziendali per grosse aziende quindi non ci spaventa un pochettino il problema della disco che vada o non vada perché comunque abbiamo sempre un'alternativa degli artisti a tutto tondo e quindi è giustamente molto molto tondo non soffri della crisi una fusione perfetta tra dj musicista appunto grazie Relight Orchestra in bocca al lupo veramente per tutto e ci sentiremo poi per i saluti di music zone grazie 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 grazie